Allora, cosa prepari? Il pollo E le fette di pollo, Alla? Alla, non si so perché è una ricetta che hai... Inventato, per sì Praticamente un giorno mi ha detto Mamma, cucino io E? E ho cucinato io il pollo La mia invenzione Sì, ha odorato gli odori, i profumi, le spezie E ha deciso quale mettere Visto che è troppo buono Che il fratellino gli ha dato dieci lode Ha deciso... No, mamma lo dobbiamo far vedere perché è troppo buono Non piacerà a tutti perché ognuno ha i suoi gusti Però può piacere a qualcuno Allora, cosa usi? Questo cos'è? Il curry Il curry, poi? Il ligano Qua c'è l'altra Ecco La salvia Poi? E... La cannella Il rosmarino Ok, l'hai preso Il pepe bianco E poi basta Ok, questi li possiamo posare? Sì Mettiamo qua, poi mamma li pose Allora Queste sono... Questa cosa serve poi? E... Poi per... Mettiamo il pollo in padella E aspettiamo che si cuoce E poi mettiamo il burro Allora, mettiamo il burro e poi? E le... Dopo che il pollo è cotto servirà la... La panna Mischiate con la salsa di soia Ok Ok, come si procede? Prendiamo il pollo Allora, l'ho scongelato, lo stavo per cuocere praticamente Allora, prendiamo il pollo, poi? Questa non servono adesso? No, no Spostiamo Allora, prendiamo il curry E poi, lo devi dire tu Ma l'hai fatta tu Io non mi ricordo neanche cosa hai messo Vediamo quante le mettiamo Così va bene? Sì Sì? Ok Sicura? No, un altro po'? No? Vabbè Come va bene? Un altro po' Così va bene? Ok Poi? L'origano Vedete Mi hai dato un nome a questa ricetta? No No? Ancora non mi... Non l'hai dato ancora? No Così va bene? Sì Perfetto Quello cos'è? È il rosmarino Attenzione che il buco è grande Basta Poi ci mettiamo la cannella Non troppo perché poi sa... L'odore sa di cannella come l'altra volta Siete che è capitata la seconda volta che l'hai fatto Troppa è caduta troppa cannella È caduta Gliel'ho messa io Eh lo so È sbattuto troppo è caduta troppa cannella Guarda Così va bene? Sì Perfetto E poi all'ultimo c'è il pepe bianco E l'olio Cosa metti? L'olio Un po' di olio? Per mischiare meglio Non fuori E ora cosa si fa? Mischiamo con le mani Massaggi? Massaggi il pollo? Metti lo piatto e passa... Bravissima Metti lo piatto Sì è fatta la palla Oh me lo posso mangiare? No Non puoi mangiare Ti è venuta già fame? Eh sì Adesso gli ho messo poche cose Poche cose hai messo? Meno dell'altra volta Sì Odora Se gli manca qualcosa Cosa manca? Il curry? Lavati le mani E ci metto qualche altro a Svezia In più In più Di riaggiungere qualcos'altro? No A parte il curry Cosa vuoi mettere? Mamma ha comprato l'altro giorno Il garam masalle Che cos'è? È una spezia che si usa per il pollo Pure Oh io ce la voglio mettere C'è dentro coriandolo, cumino, zenzero Coriandoli 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 Coriandolo Aspetta che lo apriamo Vediamo Vediamo che odore ha Odore, è abbastanza forte come odore Ve lo metto? Non lo so Vabbè assaggiamo Ah lo vuoi provare? Certo Allora sta mettendo un del garam masalle Un ingrediente in più dell'altra volta Ah ok È piccante? Eh sì Allora basta Ancora origano Perché ce l'ho messo poco Sicura? Sì Ok No cannella no Cannella no Dai che è piccante Ti piace il curry Vabbè Adesso massaggio Più per bianco Più per bianco Guarda non si vede Però si sente poi Eh Lo so Ok E Vuoi mettere un altro po' di olio? Origano Sì Quello è veramente rosmarino Rosmarino Basta? Un altro po' di olio così mescoli bene? Sì Perché ci ho messo Ok Basta cosa che non c'è Io l'ho messo nel curry Sennò poi Ok Ora è venuto in tutto il po' Eh Adesso Ora è il colore L'odore ti piace adesso? Adesso Lo sento da qua Come si sente? Certo che si sente Quando finisci di massaggiare? Devi massaggiare per almeno 5 minuti? Di meno Di più? Di meno Allora all'incirca 5 minuti di massaggini? Sì Perché così il pollo viene più? Morbido Più Tenero Tenero Come l'altra volta Come l'altra volta L'ho messaggiata tanto Buona È venuta Eh sì Corriandola, comino, zenzero, pepe, cannella, aglio, cardamomo e chiodi di gherofana Basta Scusa Scusa Mi ero persa Va bene così Massaggiare il pollo Allora lo mettiamo qua C'è la Prima mi la vuole bene Ok Il tuo aspetto Mettiamo Un pezzo di burro Nella padella E accendiamo E facciamo sciogliere il burro Il burro si è scogliato Mettiamo il pollo Bravissima L'allarghi bene Non stizzare anche Perché il burro si è caldo Lo so Bravissima Sù Dai che ce la fai Bravissima Ok Bravissima Sì sì Tu È la tua ricetta Te la fai tu Un altro po' direi no Non la vuoi bella rossicciata? Sì Molto rossicciata Molto rossicciata E noi aspettiamo Vediamo questa Va bene? Ah non lo so Dimmi tu Sì 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 Quella si può uscire? Sì 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 CARE E vediamo questa Adesso allontana la dalla fiamma Cosa devi mettere lì? No, da così alto, più basso. Ok, è cucchiaio di legno. Ora con la salsa di soia si colora. Devi mettere adesso la salsa di soia? No, dentro si cuoce. Allora, adesso che hai messo la panna, cosa devi mettere? Il sale. Un po' di sale, poi? Gli diamo, calziamo un pochettino. Prima mettiamo la soia, no? Allora abbassiamo. Coliamo. Il sale, prima quando hai massaggiato tutte le bistecche, non hai messo sale? Hai messo solo le spezie? Solo le spezie. Il sale l'hai messo adesso sulla panna? Sì, ora mettiamo la salsa di soia che già sta finendo. Allora, gliela posso mettere tutte? Sì, l'ho comprata se ti serve, eh? Allora, ok. Va bene? Non hai aggiunta il trassoio, vero? No. No, ok. Ok. La fai cuocere un po', zile a fiamma? Certo. Mescola perché se no si secca. Sì, eh. Quando dici che è buona? Non lo so. Non lo so, io ti direi che è buona, se no si secca troppo, no? Adesso? Dimmi tu. Tra un po'. Proprio due minuti. E versate tutta la crema solo. E questo è il? Pollo. Il pollo alla siglia. Ok. Non si pulisce mai il piatto, la paletta così. Ho finito. Buon appetito. Alla prossima? Alla prossima. Ok, ciao ciao. 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 Ciao.